Eccoci qui in piazza Bagolino, proprio all'ingresso del parcheggio interrato che come possiamo chiaramente vedere già adesso che sono le 12 e 20 minuti è chiuso. Dei problemi riguardanti il parcheggio interrato di piazza Bagolino ad Alcamo si è ampiamente parlato nei giorni scorsi e la novità di oggi è che proprio a partire dalle 16 del pomeriggio della giornata odierna se ne prevede la chiusura. Come c'è annuncia il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, cosa succede? Sì, purtroppo siamo costretti a chiudere il parcheggio per qualche giorno perché come abbiamo detto nei giorni scorsi, come si è parlato nei giorni scorsi abbiamo scoperto, non so malgrado, che sono stati rubati tutti gli estintori diverti e rubati, quindi questo non consente in questo momento di proseguire nell'apertura. Per cui giusto il tempo, qualche giorno per riacquissarli e ricollocarli e lo riapriremo. Però una cosa va detta, è veramente ignobile che accadano questi atti, purtroppo non sono gli unici atti di vandalismo che in giro per la città nell'ultimo periodo abbiamo registrato. Questo va a colpire tutta la città perché abbiamo raggiunto un equilibrio che io credo era positivo, cioè quello di garantire l'apertura H24 del parcheggio che è un polmone necessario per garantire anche la mobilità e gli spostamenti dei nostri cittadini. Purtroppo per pochi vandali siamo costretti a chiuderlo, ma la promessa che ci siamo fatti un po' tutti è quella di inasprire controlli, sanzioni, chiedendo anche la collaborazione delle altre forze dell'ordine perché è veramente arrivato il momento di fare la voce grossa e di impedire che ancora continuino questi atti. Un'azione concreta poi che faremo, a cui stiamo già lavorando, è quella di collocare telecamere di videosorveglianza per assicurare laddove ci fossero ancora eventi del genere questi delinquenti perché non c'è altro da dire, non sono piccoli atti vandalici, sono furti, sono reati che vanno quindi contestati e sicuramente vanno assicurati poi alle autorità coloro le quali li fanno. E saranno installate anche delle telecamere? Sì, sì, dicevo proprio questo, delle telecamere di sicurezza, tra l'altro abbiamo un impianto da pochi giorni attivo che viene gestito non solo dalla Polizia Municipale di Alcamo ma anche dalle altre forze dell'ordine, quindi risolveremo questa faccenda una volta per tutte perché non possiamo rinunciare al parcheggio. Il parcheggio fino a qualche anno fa era chiuso la domenica, chiudeva ogni giorno alle 18, oggi invece è utilizzato da tutti, la mattina presto, la sera tardi, per uscire in centro. Non possiamo rinunciarci e neanche possiamo pensare di collocare personale H24 lì, non accade da nessuna parte, ci sono i mezzi moderni da un lato e dall'altro lato ci vuole la civiltà di tutti i concittadini, anche di quelli che si macchiano di questi eventi, nel convivere, nello stare insieme in maniera civile non può trovare posto certamente atti del genere. Grazie a tutti. Grazie a tutti.